E' avvilente la notizia del nuovo, presunto, grave caso di corruzione in sanità che oggi ha visto in Sicilia l'arresto di 10 persone coinvolte in un vasto giro di tangenti. Tra queste anche il coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19. E' scandaloso che a ricoprire cariche così fondamentali per la tutela della salute pubblica ci siano soggetti che sfrutterebbero la situazione per i propri fini di lucro. Episodi come questi minano il diritto alla salute delle persone, l'efficienza e l'immagine del nostro sistema sanitario nazionale. Sono ancora più intollerabili in un momento emergenziale come questo, in cui il diritto alle cure e la sicurezza devono essere costantemente messe al centro delle politiche sia nazionali che regionali. Ci ricordano inoltre dell'urgenza di procedere a una seria riforma del meccanismo delle nomine in sanità. Chi si prende cura della salute degli altri deve essere svincolato da interessi di altro tipo. Così Maria Lucia Lorefice, presidente del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali a Montecitorio. Abbiamo letto il comunicato stampa della parlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, Maria Lucia Lorefice.